i tifosi stanno creando un'atmosfera incredibile la squadra che attaccherà da destra verso sinistra sarà ML United la squadra che attaccherà da sinistra verso destra sarà West Midland Stripes Greening grande opportunità sarà rimessa laterale Andy Johnson l'arbitro fischia Van Persie buona mossa che gol ecco chi apre le marcature 15 minuti giocati questo tiro tagliato si è infilato in maniera stupenda hanno segnato il primo gol dell'incontro come pensi che cambierà a questo punto il loro atteggiamento Mauro? credo che non cambierà per nulla ci sono abituati a queste situazioni non sarei sorpreso se fossero ancora più accorti nella costruzione della manovra 15 minuti trascorsi Darren Moore mal giocata qui c'è l'opportunità per un contropiede nessuna delle due squadre sembra in grado di mantenere il possesso palla Andy Johnson Ghiera siamo alla mezz'ora Nilmar palla recuperata con un grande intervento ma adesso è nei guai la difesa deve stare in guardia in questa occasione sembra un buon pallone stanno scendendo sulla fascia destra deve mettere un buon pallone in mezzo tenta il colpo di testa beh non è riuscito ad essere preciso in questo caso penso che avrebbe dovuto tenere gli occhi fissi sul pallone è fondamentale che un attaccante sia concentrato in questa occasione Clement Greening ce la stanno mettendo tutta 5 minuti soltanto al termine del primo tempo Adriano gliel'ha sottratta in modo perfetto Chaplow tre minuti di recupero Adriano Van Persie liberata dal difensore e l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio ma la partita è ancora aperta eh sì Marco penso che il secondo tempo sarà scoppiettante già dai primi i giocatori rientrano dopo l'intervallo e la seconda frazione comincia le squadre hanno cambiato campo per il secondo tempo Van Persie il portiere riesce a parare entrambe le squadre non stanno tirando indietro la gamba ha riguadagnato un po' stesso palla Nielmar è in mezzo opportunità per un cross non stanno tirando indietro la gamba Hans Johnson Kano buona difesa Nielmar Hans Johnson Halbrexen liberata dal difensore hanno ottenuto una rimessa laterale siamo quasi nel quarto d'ora finale solida difesa in questo caso la persa Greening Gera si è appena trovato in fuorigioco Van Persie ha riguadagnato il possesso palla davvero un passaggio da dimenticare Van Persie Adriano entrambe le squadre sono troppo precipitose una volta entrati in possesso palla Van Persie due minuti di recupero ecco un'occasione favorevole per partire in contropiede punizione Horsfield Greening fischio finale hanno segnato l'unico gol della partita e hanno portato a casa la vittoria sono riusciti a difendere sono riusciti a difendere per la ribe per la ribe riusciti attraggio gambe riusciti la attraggio indietro in Grazie a tutti. Ecco il fischio, ci siamo. La squadra che attaccherà da destra verso sinistra sarà ML United. La squadra che attaccherà da sinistra verso destra sarà South East London Reds. Nielmar. Opportunità per mettere in mezzo un pallone e aprire le marcature. Questo provocherà una rimessa laterale. Ha recuperato il pallone. Jeffers. Smertin. Rimessa laterale. Non tira mai indietro la gamba. Il portiere non ha tergiversato. È uscito e ha abbrancato la sfera. Fampersi. Adriano. Smertin. Il fischio c'è. Non ci sarà un'ammunizione ma soltanto un richiamo verbale questa volta. Romedal. Hanno ancora il possesso di palla. Fampersi. Adriano. Possesso riconquistato dalla difesa con un'efficace marcatura. Non tira mai indietro la gamba. La persa. Ah, hanno tagliato in due la difesa. Romedal. Da lontano. Senza problemi tra le braccia del portiere. Nielmar. È solo di fronte al portiere. La difesa ha fatto un buon lavoro. E improvvisamente la difesa è costretta a rincorrere. Non riescono ad intendersi. Brutto passaggio. Cinque minuti al termine del primo tempo. Nielmar. Ha riguadagnato il possesso palla. Mal giocata. Nielmar. Serve un cross preciso. Si sono conquistati un calcio di punizione. Deve mettere in mezzo un buon cross. Non male. Ma è fuori bersaglio. È vero che se non tiri non segni. Ma qui l'errore è stato abbastanza grossolano. Nielmar. Che l'ha rubata. Ed è la fine dei primi 45 minuti. Allora Mauro. Come sta andando questa partita di ritorno secondo te? Siamo pronti per un secondo tempo entusiasmante Marco. Un gol in trasferta potrebbe cambiare le carte in tavola. Dunque. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Zero a zero. Dunque, vediamo cosa ci offrirà il secondo tempo. Vediamo quale squadra sarà in grado di passare in vantaggio nel secondo tempo. verso il possesso della sfera. L'arbitro ha emesso un fischio. Adriano. Nielmar. Uno contro uno. ha scaricato il tiro. È stata respinta dal portiere. Calcio d'angolo. Perfetta per uno stacco di testa. Stanno difendendo bene. Molto bene a dire il vero. Stanno scendendo sulla fascia sinistra. Sono davvero sotto pressione adesso. Cross alto. Passaggio facilmente raccolto. Con persi. Adriano. È in mezzo. Si è appena trovato il fuorigioco. Holland. Hanno intercettato il passaggio. No, è stato intercettato. Smerti. E passa la palla all'indietro. Stanno avanzando sulla fascia sinistra. Sembra un buon pallone. Ed è un colpo di testa. No. Non sarebbe mai potuto entrare. Penso che la preparazione sia stata decisamente migliore della conclusione. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Entrambe le squadre sono troppo precipitose una volta entrati in possesso palla. Van Persi. Ecco una fuga in contropiede. Tiro scoccato. Forse è una perdita di concentrazione qui. L'ha messa a lato. Ma avrebbe dovuto essere molto più efficace. Hanno effettuato un cambio, Mauro. Sono determinati a reagire. Sì. L'allenatore probabilmente sentiva che avrebbe dovuto fare qualcosa per recuperare. La speranza è che le forze fresche possano fare la differenza. L'ha sottratta in modo perfetto. Spector. El Carcuri. Spector. Siamo nei cinque minuti finali. Nilmar. Ha riguadagnato in possesso palla. Romedal. L'arbitro ha fischiato. Spector. Romedal. Se crossa bene possono segnare ora. Devono. A far molto meglio di così se vogliono fermarlo. Mette fuori causa la difesa. La respinta del portiere manda la palla sul fondo per un calcio d'angolo. Riusciranno a metterla dentro? Oltre la linea per una rimessa laterale. 90 minuti di stallo e adesso ci sono i supplementari. Nessun gol, Mauro. È davvero sconcertante. Non penso che sarebbe troppo chiedere un gol. Il primo tempo supplementare sta per cominciare. Ed entrambe le squadre sono alla ricerca di un silver goal. Cosa pensi che accadrà nei tempi supplementari, Mauro? Penso che vincerà chi avrà più resistenza. Ci sono molti giocatori che accusano segni di stanchezza. Nielmar. Qui c'è l'opportunità per un contropiede. Gli è la rubata. È libero sulla sinistra. Crossa in mezzo. Tenta dalla distanza. Il portiere ha deciso che era meglio non rischiare la presa. Dunque, corner. È sul primo palo. Gran movimento. Opportunità per metterla in mezzo. È in arrivo un altro cross. La palla è fuori. Rimessa dal fondo. Ha usato il proprio corpo molto bene in questa occasione. Concesso un calcio di punizione. Sta scaricando una cannonata. Fine dei primi 15 minuti di supplementari. I giocatori saranno vicini all'esaurimento delle proprie energie quando comincia il secondo tempo supplementare. Dunque, vedremo un gol nel secondo tempo supplementare. Smertin. Holland. Tiro scoccato. Il portiere l'ha salvata, ma l'ha messa in angolo. E' in mezzo. Gran respinta di pugno del portiere. Posta curta. Fan persi. Opportunità per mettere un pallone in mezzo. Questa è una giocata davvero pericolosa. E l'arbitro ha segnato, direi, giustamente una punizione. Ci sono due uomini in barriera. Il portiere è stato impegnato costantemente oggi. Hanno costruito alcune azioni interessanti, ma il portiere è stato troppo bravo per loro oggi. Due minuti di recupero. Fan persi. Adriano. Non riescono a trovare il modo di superare la difesa. Siamo alla fine dei 120 minuti. Avremo i calci di rigore per decidere di... Cominciano i calci di rigore. E' pronto per calciare. Nonostante l'enorme pressione, l'ha messa alle spalle del portiere. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. L'ha messa nell'angolino destro. E' uno a uno adesso. Hanno pareggiato. E' dentro. Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Mamma mia! Il portiere è riuscito a pararla. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai la figura dello stupido. Hanno l'opportunità di andare avanti di due gol. Calciato fuori sulla sinistra. Tanta potenza, poca precisione, fuori. Il capitano si incarica della battuta con molto coraggio. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Non riesce a crederci. Fuori, sulla sinistra. E' stato un buon tentativo in ogni caso. Sì! Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Il portiere può diventare l'eroe di giornata. Sì! L'ha messa dentro. E la sua squadra tira un lungo sospiro di sollievo. E adesso rimane la morte improvvisa. Questo rigore può regalare la vittoria. E così questo tiro ha deciso la partita. Sono adesso in semifinale. Partita abbastanza gradevole, vero Mauro? E che ne pensi dei calci di rigore? Grande battaglia terminata nel modo più crudele. No! 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 Grazie a tutti.